E ancora una volta ciò ragazzi per ritornati sul mio fantastico video Raga, siamo su Brawl Stars Abbiamo tre nuovi eventi a Raffagemme e Colle di Pietra Dove sopravvivenza l'anda dei pericoli Footbrown Campbrown Abbiamo qualcosa nella cesta 30 monete Potete già Il primo Potete già scegli Possiamo migliorarlo Se lo ricevi, sapete Ecco Ora Vediamo solo che ci ha invitati Scusate se faccio così ma Non so per se O qualcosa O qualcosa O una zona tappata E vediamo Sibo Però Vediamo Footbrown Non mi va tanto Internet Non va tanto Perché sono a registrare In bagno Perché Perché è aperto da me In camera In camera Vediamo Vediamo Sconfitta Vediamo sconfitta Bloccare Bloccare Non si blocca Vediamo sconfitta Vediamo sconfitta Vediamo sconfitta Vediamo sconfitta Vediamo sconfitta Vediamo sconfitta Valente niente riproviamo sopravvivenza in due anzi si è caldo allora non hai capito devi venire di qua fino a che si scalda un po la casa non mi fare incazzare comodo non fa caldo prendere freddo andrea di portare l'immunizia quello e fammi andare in camera no no non mi fa rincazzare ti ho detto di no si deve scaldare la casa si deve scaldare la casa si ritira e aspetta dieci minuti no vorrei che ti scaldo io si ritira e aspetta dieci minuti sto perdendo tempo siediti e aspetta dieci minuti lì no dai no ma trovi il camerato no perché è davvero a presto da me è già caldo ma mi stai facendo perdere tempo stai lì dieci minuti no stai lì dieci minuti nooo stai lì dieci minuti non ti avvicinare ora ce ne prendi vado avvicinati no 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 giù benissimo buttetera va the fudge noo no 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 manico ti faccio venire all'ospedale ti faccio venire 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 raga scusate tutta sta bestia che per sbaglio attivato di nuovo il video però continuiamo scusate mio padre lui crede che sono malato ma in realtà no lui è mia madre pure non prende qui raga scusatemi se così ma non mi fa andare in camera mia mio padre però ancora scusate del mio padre mia come si chiama per sbaglio ho ottimato il video ma non era colpa mia è mio padre spero che mi perdoniate un po' Grazie a tutti. il naso, ma non è che sono raffreddato, perché abbiamo misurato moltissime volte la febbre, io e mia madre, scusate se va lento, ma come vi ho detto, il bagno non prende, oh santo, no, no, abbiamo perso ragazzi, perso, andrà meglio alla prossima volta, grazie a mio padre, se non mi ha fatto andare a dire, raga ringraziate mio padre, ringraziate, allora raga per questa volta è tutto, vi compaiono altri video, e da mille stendini out.